GF VIP e nuovi ingressi, chi sono i 6 nuovi del Grande Fratello VIP quando entrano in gioco? Il GF VIP si prepara alla sfida con Sanremo 2023, mettendo in campo nuovi ingressi, per gli esperti di Gossip Si, e ci sono anche i nomi. Ecco chi potrebbe varcare la Porta Rossa il 9 febbraio. Grande Fratello VIP si prepara alla sfida con Sanremo 2023, mettendo in campo nuovi ingressi. Solo qualche giorno fa Gabriele Parpiglia a casa People aveva svelato che un amatissima ex VIP pone e due ex fidanzati degli attuali concorrenti sarebbero entrati nell'ofto di Cinecittà. Da febbraio sono previsti nuovi ingressi al Grande Fratello, non saranno però concorrenti. Saranno degli ospiti. Tra questi possiamo fare dei nomi, ci sarà il probabile ritorno di Jessica Selassie. È stato chiesto a Matteo Diamante di entrare. Questi nomi li stiamo dando in esclusiva. Non è detto che Chiara, Rabbi NDR, che ripeto come ho detto l'altra volta stava aspettando una risposta per fare latronista a uomini e donne. Non possa essere tra questi ingressi. Così mentre Chiara, Rabbi, ex di Davide Donadei, ha già preso le distanze da questa notizia, l'investigatore sociale aveva rivelato che non sarebbe stata Jessica ma bensì Clarissa la sorella delle Selassie che entrerà nella casa. Recentemente l'ex vippone ha mostrato interesse per l'inquilino Andrea Maestrelli. Ad aggiungere un altro tassello al puzzle ci è pensato poi Biagio Danelli che ha affermato che il 9 febbraio entreranno ben altri sei concorrenti nel GF VIP. Inoltre l'ex vippone, ed esperto di gossip, ha fatto intendere che tra loro potrebbe esserci anche Gianluca ben in casa. Ex di Antonella Fiordelisi che era entrato qualche settimana fa nella casa per farle una sorpresa. Nella settimana centrale del Festival di Sanremo, cioè a venerdì 9, entreranno sei nuovi concorrenti. Riusciranno questi sei nuovi concorrenti a distogliere il Festival dei Fiori, la reunion degli articolo 31. Paola Chiara, la voce angelica di Giorgia, di cui uno è un ex vippone, che poi ex non è? E che è entrato questa sera in quarantena, e che quando è entrato in casa diceva guardami. Non guardare in basso, guardami, avete capito chi è? Chissà quindi se è vera la notizia e se tra questi sei concorrenti ci sarà l'ex della Fiordelisi. Non ci resta che attendere la puntata delle reality di Alfonso Signorini del 9 febbraio.